La scuola Aretina si presenta ad Orientamente, insomma che fotografia però possiamo un po' tracciare prima di questo appuntamento? Noi possiamo tracciare una fotografia che riguarda una scuola sicuramente vivace e presente nei vari settori del sistema di formazione che ha delle ottime performance a livello alto ma che denuncia alcuni limiti anche rilevanti a livello di recupero di situazioni più critiche che di fatto non riescono poi a rientrare nel sistema di istruzione. Quindi l'occasione del fine settimana che ci aspetta è legata a fornire alle famiglie la possibilità di vedere in un'unica soluzione l'intera offerta formativa della provincia e non una rappresentazione settoriale o selettiva sulla base dei propri interessi. E dall'altra parte cominciare a ragionare tutti insieme su un fenomeno che è critico perché la nostra percentuale di ragazzi che non arrivano al diploma è la più alta della Toscana e una delle più alte d'Italia, è il 22%. Capire perché abbiamo questo fenomeno, anche perché il tasso di occupazione che noi abbiamo nella stessa fascia d'età 15-24 anni è sì un po' più alto di quello del resto della Toscana, la Toscana si attesta intorno al 21% noi siamo sul 25% è qualcosa, però non è tale da compensare e da giustificare questo valore. Credo che molto anche delle problematiche legate all'abbandono scolastico e poi alla ricerca del lavoro sono legate anche al fatto che dobbiamo avere più contezza di quali sono le opportunità lavorative dei nostri territori. Quindi mettere insieme, fare sinergia tra tutte le realtà istituzionali, cercare di capire quelle che sono le opportunità lavorative che offre la nostra provincia e quindi fare in modo anche di orientare in tal senso tutta una serie di corsi specifici che permettano quindi ai giovani di sapere che facendo certe scelte avranno l'opportunità di avere probabilmente un lavoro a fine studio, un modo per incisarli a portare a termine gli studi e soprattutto per avere un futuro concreto davanti.